Buona domenica a tutti e bentrovati. Parto con un ringraziamento. In meno di due mesi siete più di 400 a seguire il canale e a esservi iscritti al canale stesso. Caspita, risultato decisamente interessante, per cui sono sempre più convinto a continuare nella mia opera di divulgazione dell'analisi ciclica evoluta, metodo che permette di, sostanzialmente, capire come si muove il mercato in termini estremamente tecnici, per carità, ma anche molto semplici se la si studia e con validi profitti e riscontri. Ma non perdiamo 5 squiglie anche perché 400 è un punto d'arrivo, non una destinazione già raggiunta. Allora, il nostro t più 2 mensile è partito e derivato per ora 34 bar su massimo 43. Nella realtà dei fatti, qui potrebbe aver chiuso 22 bar? No. Qui neanche perché avremmo avuto un minimo superiore a questo qua. Questo sarebbe stato superiore a questo. Avremmo potuto chiudere qua? Forse, ok? Perché la condizione minima per la chiusura effettivamente c'è e come. Avremo un sottociclo di 3 grani inferiori rispetto al t più 2, quindi un t meno 1 ribassista, caspita, 1, 2, 3, 4, 5 candele, quasi 6 sotto, ce l'abbiamo e come. Solo che questa però è una partente abbastanza moschetta, anche se si può rifare tranquillamente da lunedì in avanti, perché appunto mi attendo, rialzi, a superare gli 11.235, non solo in lunedì per il resto della settimana, per il discorso dell'inverso. Ovvero, guardando anche i cicli inversi, per ora abbiamo che da questo massimo, essendo partito un t più 4, ma anche nella realtà ormai tranquillamente un t più 5 è un nuovo annuale, abbiamo che fino a qua, fino a 36 giorni, fino a questo massimo abbiamo avuto il primo t più 2, poi abbiamo avuto un piccolo accordo e probabilmente la partenza del secondo t più 2 inverso è stata su questo massimo ed avendolo già superato ci siamo vincolati a ribasso di inverso e quindi a rialzo di indice e quindi ci aspettiamo salite, come detto, superiori agli 11.235 per i prossimi giorni e compatibilmente con i tempi ciclici, perché se da una parte su questo secondo t inverso siamo arrivati a 6 giorni durata minima, per cui potrebbe avere già la condizione minima per la chiusura dell'inverso con questo massimo, nella realtà dei fatti possiamo arrivare anche tranquillamente a 8, 9, 11, 11 è la massima durata, per cui mi aspetto sostanzialmente tendenza a rialzo e aggiornamento dei massimi precedenti per la prossima settimana. Questo collima anche con la parte indice, certamente, da questo minimo se i partiti sono fatte 1, 2, 3, 4 candele, per cui il secondo t settimanale è all'inizio, può arrivare, vero, soltanto a 6 ma può fare tutto quello che vuole, andare a 8, andare a 11, eccetera. E poi però avremo la condizione di chiusura non solo imposta dal t e quindi un semplice t-3 ribassista ma anche dal t più 1, quindi un t meno 2 ribassista, 2 giorni con tendenza a ribasso e aggiornamento dei minimi. Solo che anche qui siamo all'inizio, siamo a 11 giorni che potrebbe essere ancora tutto un settimanale, non lo è, lo sappiamo, ma a 8 più 4, anzi scusate, non 8 più 3, ma siamo appunto non a 11 ma a 12 giorni, abbiamo appena passato la mediana del settimanale stesso, per cui c'è ancora spazio per crescere. Questo è quanto, ricordiamoci un'altra cosa che stiamo trovando, probabilmente, troveremo resistenze su questo ritracciamento di Fibonacci dello 0,50 sul livello superiore dell'accumo che passa circa a 11.021 e che la direzione però è ad andare, almeno a dare un bellissimo bacio a 11.235. Poche altre cose da dirsi, su DAX, arriviamo anche sul Futsimib, guardate la differenza nei grafici, DAX, salita, siamo già a un ritracciamento che ha superato il 50% della discesa fatta in precedenza, Futsimib, abbiamo fatto questo massimo qua che è una risalita del 38% rispetto a tutto questo crollo. Quando vi dico di forza relativa minore su Futsimib, per ora parlo di questo, c'è stato un rimbalzo innocuo che ci confina ancora in un bear market, mentre invece su Standard Impulse 500, su DAX, non è affatto così. Oltretutto c'è stato il tentativo di una rottura del livello inferiore dell'accumo, niente, è fallita e stiamo continuando a rimanerci sotto. Quindi fate estremamente, estremamente attenzione. Qui si può sperare che si copino sostanzialmente gli altri due mercati, ma le correlazioni, come sapete, si legano e si slegano. Per cui se ci si accompagna per un certo periodo, può anche essere che a un certo punto non ci si accompagna più. E quindi che il Futsimib rischi ritracciamenti se non riesce a un certo punto a superare questo livello. E anche qui, teoricamente, l'inverso ci direbbe la stessa identica cosa che ci dice su DAX. Ma finché non superiamo, o non arriviamo almeno a 18.302, prima abbiamo il livello inferiore dell'accumo da superare, poi abbiamo questo livello a 17.824 da superare e poi bisogna vedere, perché qui siamo sotto la media mobile a 50 periodi e siamo ancora in Death Cross. E l'indicatore non è bellissimo al MACD, perché se il trigger verrà tagliato si va giù. Quindi attenzione. Vediamo se si vorrà salire e aggiornare i massimi, come negli altri mercati, ma prestiamo più attenzione, anche perché su questo mercato non possiamo andare short, ma possiamo soltanto andare long. Quindi il suggerimento è di passare qui. D'accordo? Spero che l'analisi vi sia piaciuta, ma i riscontri in termini di numeri contano più di tante altre cose e anche i commenti. Postatemi tutte le domande che volete, come sapete rispondo a tutti. Chiedetemi tranquillamente dove poter ricevere risposte ancora più rapide, ovvero i gruppi Facebook di Financial Armor. Basta che mandiate una mail a info-financialarmor.eu e avrete tutte le informazioni del caso, lo chiedetemelo nei commenti. Ricordatevi che ci sono tanti gruppi a cui io appartengo, tanti gruppi di trader. Alcuni sono amici, alcuni sono chat di WhatsApp. Una buona parte sicuramente è su Facebook. Anzi, i gruppi che coordino sono su Facebook. Tanti gruppi differenti, tante informazioni differenti, tanta possibilità di accrescere le proprie conoscenze se si ha una mente aperta e se si vuole sempre migliorare. Questa è la cosa fondamentale per un analista quantitativo, un trader e anche per una persona. Per cui a voi la scelta di che cosa fare nella vostra vita. Buona domenica ancora a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti.